Musica Salve amici del Centrometro Italiano, maltempo che entra nel vivo nei prossimi giorni sull'Italia, vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 20 ottobre. Precipitazioni intense al mattino sulle regioni settentrionali e possibili temporali e nubi fragili su Liguria e Piemonte, e variabilità asciutta al centro-sud. Al pomeriggio maltempo che si sposta verso le regioni del nord-est con fenomeni più intensi al ridosso delle Alpi. Pi asciutto altrove salvo locali piogge su Sardegna e Toscana. In serata è notata invece fenomeni in arrivo anche su Umbria, Lazio e Campania e localmente anche a carattere di temporale. Temperature minima e massima in generale aumento su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.